Certo, diciamo, non vi fossi sposati, tutto sto casino di... è vero, non so. Comunque per andare a sentire il più fastidioso umiliare. A 32 anni si è aperto qua. Nell'epoca non c'erano quelle che ti insegnavano. Lui ha rubato con l'occhio a questi maestri e poi ha fatto sta gondola che poi l'ha appunto rielaborata perché secondo lui non era ancora perfetta. E così tuttora si usano gli stessi sistemi, le stesse misure, il stesso modo di fare come all'epoca. Sino a marzo si è dai... Non per niente io sono arrivato con il mio metro a sticca che mi hanno insegnato di usare il metro, di avere sempre il metro e matita in tasca, no? Però ho scoperto che qua non veniva usato il centimetro, venivano usate le once, i piedi veneti, insomma. Ho dovuto prendere la scartatrice, tirare via i numeri sul metro e mettere a fianco quello di Roberto e riprendermi la sua unità di misura. E questo invece è il lato P e Veneto. Pensa da quattro tavole messe lì fai una cosa che è invidiata a tutto il mondo perché la gondola è conosciuta, vai sull'Himalaya e conoscono la gondola o comunque il ferro c'è la cosa più fotografata che esista ho sentito dire. Dunque allora fa piacere. Logicamente adesso con l'età nel senso che cominci anche a innamorarti anche di quello che fai e poi ti dispiace quando va via. C'è il varo bellissima, perché giornata, che dopo tante ore di fatica, di lavoro, c'è sto varo che è in liberazione. Però sotto sotto mi dispiace perché poi non c'è più qui, non la vedo più. Però la vedo passare già qualcosa. Per l'estero cerco di proporre gondole usate in modo che faccio quella nuova e me la vedo passare. Fai quella nuova per l'estero, sì, può essere valido a livello monetario, però sentimentalmente non bello. Fai quella nuova per l'estero, sì, può essere valido a livello. La gondola Tramontin per noi che siamo i gondolieri che usiamo tutti i giorni è proprio un discorso di manovrabilità, un discorso di leggerezza nel vogarla, nel remarla ed è anche una forma, una silhouette che è unica, che per noi a detti i lavori si distingue rispetto alle altre gondole di altri costruttori. Crescendo mi sono resa conto che quando mi dicevo, ah, che l'avrò fatto papà? Eh, il mio papà col tuo scegondole, tutti mi guardavano come se fosse strano. E però sì, poi soprattutto ho la fortuna di sapere molte cose, perché mio papà comunque attraverso mio nonno ha tanti ricordi, quindi riesco a portare avanti comunque una Venezia che adesso non c'è più molto. Poi la barca è nuova, no? Poi la barca è nuova, no? Ci sarà sempre qualcosa di nero che ingalleggia a Venezia con un affare che luccica davanti. La chiameranno gondola, perché però sicuramente fra cento anni non sarà così. Magari sarà in plastica, sarà tipo gommone che lo sgonfi, che ne so, sarà roba, sarà tutto in carbonio che è già nero, quindi si spavano ancora di pingerla. Che ne so, io fra cento anni cosa succede. Sì, passiamo col Morano. Falco. Grazie.